Questo video riguarda i migliori 3 gadget futuristici. Il vincitore della qualità è il SkyMii Owl Robot. Gli animali sono molto vivaci e non rimanere in un posto per molto. Con l'app SkyMii puoi guidare Owl Robot per tracciare e interagire con il tuo animaletto. Owl Robot dispone di una telecamera HD completa 1080p con 4 zoom e 130 ampia vista di angolo così come un microfono audio HD 2G integrato. Gioca con il tuo bellissimo bambino, controlla il movimento del buffo o fai rotazioni, sovrapposizioni e altre modalità di azione. Anche tu puoi buttare fuori dolcetti per premiarli dopo l'interazione. Anche se la vostra casa non ha un 2,4 G WLAN e il vostro telefono è in modalità aereo, aprendo la modalità AP è possibile connettersi a Owl Robot e vedere, parlare. Owl Robot reagisce automaticamente quando rileva il comportamento degli animali e ti invia un messaggio. E i video possono anche essere registrati automaticamente dopo l'inserimento della carta TF. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video, l'alternativa è l'avviso lampada luna. Utilizzando la levitazione magnetica avanzata, la luna galleggia senza sforzo e ruota dolcemente nell'aria. Utilizzando l'induzione elettromagnetica, la lampada della luna si illumina mentre gira. Premi semplicemente il pulsante di spegnimento per spegnere la luce e la luna rimarrà sospesa nell'aria. Il design leggero, portatile e plug and play lo rende perfetto per qualsiasi arredamento della casa o dell'ufficio. Diamo valore alla nostra qualità ed è per questo che tutti i nostri prodotti sono coperti da una garanzia di uno. Il vincitore del premio è il plafoniera LED Soggiorno. Questa moderna plafoniera dal design elegante e semplice si integra con qualsiasi arredamento moderno. Crea un'atmosfera familiare e romantica. Dimensioni, lunghezza 90 cm, larghezza 50 cm, altezza 9 cm dimerabile con telecomando. Sotto il tuo controllo, temperatura colore 3000 k luce calda, 6000 k luce bianca, luminosità 5%, 100%. È l'apparecchio ideale per l'installazione in camera da letto, soggiorno, cucina, sala da pranzo, ufficio, atrio, corridoio, corridoio, scale, soppalco, balcone, ufficio, il ristorante e l'atrio non solo l'illuminazione, ma anche la decorazione artistica. Potrebbe esserci una lieve aberrazione cromatica dovuta agli angoli di ripresa e alla luce. A causa dei diversi strumenti di misurazione, può verificarsi un errore di 1 o 2 cm. Le istruzioni di installazione e gli accessori di installazione sono inclusi nella confezione, facili da installare. Se avete domande o necessità, non esitate a contattarci. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.